Musica Altre 40 persone sono state rapite la notte scorsa Già, ancora quei doni, siamo tutti condannati Caspita, improvvisamente mi è venuta sete, a te no Salve mo Ciao, Jake Ehi, Paige, sei venuto a farti qualche bicchierino? Il primo l'offro io Grazie mille per le preziose informazioni Propaganda 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 Il primo l'offro io Talla Il primo l'offro io Il primo l'offro io Il primo l'offro io Perfetto, l'archivio io. Signorina, viene a tentare la fortuna con l'occhio di lince. Identificazione, conto, ok. Propaganda, propaganda. Ti darò la camera 3. Sono certo che ti piacerà. C'è un bellissimo armadio antico. Ti consiglio di darci un bicchiato. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Partito lavoro. Ottimo lavoro. Sì, è un bellissimo armadio. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Grazie a tutti. Amici, vorrei presentarvi Jade, la nostra nuova agente. Speravo ti unissi a noi, avvicinati. Questa è made della redazione e distribuzione del nostro giornale, l'Iris. Nino, operatore radio e infaticabile attacca manifesti. Ehi, salve. Su questi schermi puoi vedere gran parte dei nostri corrispondenti. Operano in tutto l'universo da più di 13 sistemi diversi. Conosci già Occhio di Lynch. Offrirti questo incarico è stata una sua idea. Ea sapeva che avresti superato la prova con successo. Bisogna essere ciechi per non accorgersene. La ragazza ha talento da vendere. Ora ascolta bene, Jade. La situazione sta degenerando rapidamente. Una bomba dei doms è esplosa nel canale. Naturalmente le squadre Alpha hanno isolato il settore. Hanno imbarcato tutti i presenti. Per prendersi cura di loro, no? Nessun ospedale ha accolto le vittime, Jade. La governatrice di Illys ci ha contattato appena ricevuta la notizia. Vuole aiutarci, ma il suo quartier generale è sorvegliato. Tu puoi darci una mano a salvare questa gente. Nino, aggiornaci sulla situazione. Ecco quello che sappiamo. Le vittime vengono rapite da agenti delle squadre Alpha. Vengono portate alla fabbrica di nutripillole. Poi delle navette le trasportano ai vecchi mattatoi. E da lì vengono caricate su incrociatori militari diretti sulla Luna. Non sappiamo cosa siano costretti a subire. Nessuno dei nostri agenti ha mai tornato da questi luoghi maledetti. Quattro giorni fa abbiamo perso i contatti con W H nella fabbrica di nutripillole. Era il nostro migliore agente, nonché amico. W H avrebbe dovuto portarci delle prove del traffico dei doms. Le sue ultime foto sono terrificanti. Un divora spiriti. Ci serve qualcuno per portare a termine la missione, Jade. Puoi rifiutare se vuoi. Continua. Ci servono prove. Uno, accedi alla fabbrica di nutripillole. Due, fotografa le squadre Alpha e anche le loro vittime. Sarai in contatto costante con me e lei trasmetterà le foto non appena le riceverà. La gente deve conoscere la verità. Già, anch'io la vorrei conoscere. Vorrei capire chi dice la verità in tutta questa storia. Questo è un passo ufficiale per la città. L'abbiamo grazie alla governatrice. Potrà aprirti molte porte. Buona fortuna. Sebon è stato digitalizzato. Jade, ho preparato un M-disc per te, se lo vuoi. L'ho messo laggiù. È tutto spiegato nei dettagli. Le squadre Alpha ci hanno ingannato. Fin dall'inizio della guerra sono state controllate dai doms e hanno approfittato del caos generale per rapire persone innocenti. Grazie a doppia H, ora sappiamo dove vengono portate le vittime su Illys. Uno, la fabbrica di nutripillole. Due, il vecchio matatoio su navette. Tre, la luna su incrociatori da carico. Dobbiamo porre fine a questo incubo. Ogni prova tangibile di questa cospirazione ci offrirà maggiore sostegno da parte della popolazione. Una rivolta generale ci consentirebbe di rovesciare le squadre Alpha e salvare migliaia di vite innocenti. Se la rivolta si propagasse, riusciremmo a porre fine alla guerra. Ma abbiamo bisogno di prove fotografiche per dimostrare quello che sta succedendo alla fabbrica. Foto delle vittime, foto delle squadre Alpha senza elmetti per scoprire chi sono in realtà. È qui che entri in azione tu, Jade. Subentrerai a doppia H nella missione. Questo è il suo ultimo rapporto. 19.23. Mi trovo nella zona proibita. 19.30. Vedo navette che vanno avanti e indietro dalla piattaforma superiore. 20.03. Sono riuscito a introdurmi nella fabbrica. 20.50. Sono esausto. Devo aver nuotato per circa 3 chilometri. 21.10. Sono dentro. Ecco. Riesco a vedere le casse nere. Un rumore. Ehi, che cosa? No. Pare che abbiano addestrato un mietitore. La presenza di questa creatura e di raggi Sigma prova che c'è anche un divora spiriti. Questo è tutto. Negli ultimi quattro giorni non abbiamo più ricevuto nulla da lui. Silenzio radio. Doppia H era il nostro inviato migliore. Ha fatto molto per noi. Grazie a lui la rete Iris è riuscita a mettersi in contatto con la governatrice di Iris. La governatrice si oppone radicalmente alle squadre Alpha e ai loro metodi. Ma non si deve scoprire. È disposta ad aiutarci se in cambio noi diffonderemo la verità, portando sempre più i liani dalla parte della rete Iris. Quando trovi una porta come questa, fotografala e invia l'immagine alla governatrice. La sua squadra di esperti cercherà di scoprirne il codice. Contiamo su di te, Jade. Sii prudente. Amen. La sua squadra di esperti cercherà di scoprirne il codice. La sua squadra di esperti cercherà di scoprirne il codice. Grazie per la collaborazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non posso sparare qui. È troppo pericoloso. Sì. È un codice che abbiamo decifrato un paio d'anni fa. Ve lo inviro. Sei già lì, Sony? Non dimenticare che la governatrice può aiutarti in caso avessi problemi a oltrepassare una porta militare protetta da codice. Basterà inviarle un'immagine del segnale criptato. Se non è stato modificato, dovrebbe essere questo. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Nessun problema. Ora dobbiamo muoverci con prudenza, Jade. Non ti preoccupare, zio Paige. Facciamo qualche foto e torniamo subito a casa. Sony, credo di aver localizzato le posizioni delle attività Alpha. Le ho segnate sulla tua mappa. Inviaci le foto. Ok, archiviata. Buona fortuna. Resisti Jade! Sto arrivando! A mio avviso non andrà oltre. Serve aiuto? Finirai per farmi consumare gli stivali jet, Jade. Mezzo di trasporto all'ultimo grido. E non è tutto, Jade. Non è tutto. Ah! Peccato per il loro bel sistema di sicurezza. Un mietitore! Ci hanno sguinzagliato contro un mietitore! Sembra a caccia di una preda. Terrà d'occhio i condotti. Qui si mette male, Jade. C'è bisogno di noi, Alfaro. Fermiamoci finché possiamo. Se la rete Iris è dalla parte del giusto, è qui che c'è più bisogno di noi. Andiamo. Che spettacolo orribile, Jade. No, scusa non tu. Non hanno risparmiato neppure gli ascensori. Resisti, vecchio mio. Lo zio Paige ti rimetterà in sesto. Pensi di poterlo riparare? Ci troverò. Ma non aspettarti un miracolo. Una bella botta da giudicare da quel cavo. Avrà bisogno di un cuore nuovo e... Tocca a te trovare un donatore di organi. Un fusibile. E dove lo trovo un fusibile qua giù? Devi trovarne uno. È in pessime condizioni. Per quanto riguarda il pistone, ho fatto il possibile. Ho rimesso quel coso in quest'altro affare. Ascensore di servizio pronto, Jade. Arrivano dappertutto! Arrivano dappertutto! Arrivano dappertutto! Maledizione! No, no, nessun bisogno di ringraziarmi. Il tuo sorriso radioso mi basta. Già, te lo do io il sorriso radioso. Ok. Dove vai? Vado a dare un'occhiata laggiù. Ok, non mi resta che aspettare qui. Attenta! Non preoccuparti! Non mi resta che aspettare qui. Non mi resta che fa. Ho bisogno di prove, Sony. Porta a termine il servizio e ti invierò il codice. Ok, Sony. Continua a lavorare sulla seconda parte del servizio e riusciremo a concludere questo numero. Nel frattempo invierò la prima parte alla governatrice. Sta aspettando le prove per mettere al lavoro la sua squadra di decodificatori. Eccolo. Abbiamo inviato una mail. Dovrebbe arrivare subito. Buona fortuna. Dovrebbe funzionare. Sta attenta. Dovrebbe funzionare. Ottimo lavoro. No 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 no. Cuore. Tutto bene? Loro mi hanno spappolato il cervello Sei tu il contatto Sei tu, doppia H No, non so, io... Rete Iris Ti dice niente? Senti un po', Mistylus Jade Mi chiamo Jade E non ho la più pallida idea di come faremo a uscire di qui Forse io potrei essere di qualche aiuto Allora sei tu, doppia H Doppia H, tripla Z Come preferisci non chiedermelo So soltanto che altri dieci minuti e sarei stato spacciato Ti devo la vita Quindi puoi contare su di me, Mistylus Jade Ho detto che mi chiamo Jade Al tuo servizio, Miss Jade Tyrus Come preferisci non chiedermelo Come preferisci non chiedermelo Ma calma, va tutto a meraviglia Troverò una via d'uscita 衝 Solo L'az 60 L'USO E L'USO Tieni duro Jude Questo monstro si ha extinto migliaia di anni fa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie, Jade. Se non era per te, sarei finito su un vassoio d'argento con una mela in bocca. Chiudi il becco. Mi fai venire fame così. Mi pentirò di averti salvato. Abbiamo ricevuto una mail da doppia H. L'hai trovato. Grandioso. Dice di non preoccuparti per lui. Tornerà da solo. Jade! Dobbiamo trovare il modo di mettere le mani su quella perla. Chiedi. 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 Nessun problema. Ehi, Jade! Fusibili a go-go! Sono perfetti per riparare l'ascensore! Ci serve una chiave speciale. Ah! Un passo speciale permesso! Prendili, ragazza! Ora! Parzai! Andiamo! Surkaste! Te la sei vista brutta con quelle guardie, eh? Brava, Jade! Intruso! Intruso! Procedura di distruzione! Autodistruzione? Lo vedrete! Attacco con stonce! Sto male! Distruggere questi miracoli della meccanica! Ok, ci penso io! Ottimo lavoro! Ecco, Paige. Sono riuscita a inserire il fusibile. Grande! Ora ha solo bisogno di un piccolo elettroshock per avviarsi. Spesione! Capito! Paige! Ho trovato una fonte d'energia! Ok, non credo passerebbe le ispezioni governative Ma presto sapremo se funziona Niente energia Sembra funzionare, Jade Ma è una riparazione provvisoria Non durerà a lungo Proprio un bel lavoretto, collega Non farti prendere dall'entusiasmo, Jade Secondo me, il peggio deve ancora arrivare Non è molto incoraggiante A proposito, Jade Ecco, è arrivato l'altro giorno per te Meglio darsi un'occhiata Perché non me l'hai detto prima? Deve essere una missione Già, forse Scusami, ma con tutto quello che è successo Nessun problema Foto splendida Bene, il tuo rullino è finito Bene, ti trasferirò una perla, Jade E ti ricaricherò il rullino Kate, sono i Torms Niente male, tesoro Se non era per te, ora sarei pancetta affumicata Kate, dobbiamo scoprire cosa ci aspetta Ok, ti trasferirò Ok, ti trasferirò Paige Paige, Paige Arrivo Pronto, porca maledetto A tutte le guardie Ottimo, Jade Grazie a tutti Grazie a tutti Ah Hai ereditato generosità e coraggio dai tuoi genitori Sai, penso spesso a loro Eravamo molto amici Vent'anni fa fummo costretti a separarci Perché avevamo gravi problemi con le autorità I tuoi genitori ti hanno affidato a me per salvarti Arrivamo a Illys Allora era un pianeta pacifico Speravo di poterti crescere al sicuro E invece esplose il conflitto Ora devi sapere una cosa Se sono riuscito ad arrivare qui Lo devo al Beluga L'astronave che ho ideato e costruito con tuo padre Esiste ancora Ma non ho finito di rimetterla in sesto Troverai il rapporto del check-up sulla mia scrivania Il Beluga è a casa nostra Devi inserire un codice in ogni console Per accedere ai nascondigli segreti Non posso dirti nient'altro sull'MDisk Ma spero che queste informazioni ti tornino utili Se un giorno dovrai usare il Beluga Succeda quel che succeda Buona fortuna, Jade Zio Paige Ness Tiros Ci sono guardie in tutto il settore Cerca di non farti scoprire Ci incontreremo un po' più avanti Sony, WH ci ha riferito di Paige L'ha visto nelle mani delle squadre Alpha Non mollare, Jade Termina il tuo servizio È l'unico modo per salvare Paige Sì, è l'unico modo per salvare Sì, è l'unico modo per salvare Sì, è l'unico pr salto Ricevuto! Misterus, in caso non ti rimanesse altra scelta, arriva di soppiatto alle spalle delle guardie e colpisci nelle riserve d'aria il loro tallone d'Achille. Ci incontreremo più in là. Gahhh! Gahhh! -gendce. Triongputs e per me non ma voglio mi Grazie. 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 Le scarpe di Paige. Cosa ne hanno fatto di te? Ok, ci penso io. Grazie. 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 Fatemi uscire di qui, schiavisti! L'avete svestito per impacchettarlo? Assassini! È tutto nell'armadietto. Allora... Grazie a tutti. 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 Eccolo. Abbiamo inviato una mail. Dovrebbe arrivare subito. Buona fortuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutte le guardie, continuate a cercare il secondo intruso. Hanno catturato il maiale. Lo stanno portando qui adesso. Vostra eccellenza. Ci siamo occupati del problema eccellenza. E i miei uomini hanno trovato e neutralizzato tutti gli... l'intrusi è tutto sotto controllo. la vostra eccellenza. destinazione... destinazione... la vostra eccellenza. 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 Page, hanno preso Page Se non fosse per te, ora ci sarei io nelle loro griffie Per una vacanza premia in una delle loro bare di lusso Biglietto di sola andata Ti troverò, Page Non mi pare Attentato terroristico della rete Iris alla fabbrica municipale di Nutripillole Grazie alle squadre Alpha la linea di produzione è stata salvata E una parte della gang dei malviventi è stata imprigionata Possiamo uscire dall'Inis, Jade Ottimo lavoro Page, ho un membro della rete Iris Forse Io non lo so So solo che era importante per me Sembra che la tua testa stia tornando a funzionare Di nuovo dei nostri? Quasi Se non fosse per il mal di testa Mi hanno davvero dato una bella lavata al cervello Mi hanno davvero dato una bella lavata al cervello Il meccanismo è laggiù Dovrei riuscire a liberare il passaggio Ok Carson e Peters Dovremmo cercare un fusibile qui intorno Identificazione conto Ok Una capsula turbo Una scatola di kebab Ripristina tutta l'energia Una capsula turbo triplica temporaneamente la velocità massima Una capsula turbo triplica temporaneamente la velocità massima Funzione Miss Jade Questa cosa mi sta divorando Non posso resistere a lungo Quelli di Iris Forse riusciranno A fare qualcosa per aiutarmi È la mia unica speranza Riportami all'Iris Ti supplico Non respiro Miss Jade Provo a connettermi ai circuiti ausiliari Ma non dureranno ancora a lungo Non vedo più niente Miss Jade dove sei? Non vedo più niente Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.